Per me Zappella è stato il migliore in campo soprattutto nel primo tempo del Pescara, pronti via la duetto con Dursi, hai messo dentro un gran pallone su un'azione pericolosa della Lucchese, hai fatto una grande diagonale difensiva, però una partita per me non bella nel complesso. Sì è stata una partita difficile come tutte le altre, una squadra molto organizzata, sono usciti bene a prenderci, ci hanno creato qualche difficoltà, potevamo essere un po' più cattini in alcune situazioni, però data così abbiamo cercato ovviamente di portare a casa i tre punti, non ci siamo riusciti. Sfuma è il terzo posto anche con la vittoria del Cesena, adesso quale deve essere l'obiettivo del Pescara? Quello che è sempre stato è quello di vincere tutte le partite, quello di cercare di non perdere più punti e portarle a casa tutte. Sappiamo che c'è poca voglia di parlare ma una cosa sola ti chiedo, Davide ad inizio secondo tempo in quei due minuti pronti via che cosa è successo? È successo che loro sono entrati meglio in campo di noi, si vede, lì ci siamo giocati la partita, poi un po' di sfortuna nei rimpalli, nelle deviazioni che hanno magari dato fastidio a Sorre, quella purtroppo fa parte del calcio, dovevamo essere tutti un po' più duri dai. Grazie Grazie